Cambiamo disciplina sportiva perché ora vi facciamo vedere alcune immagini del primo test in Formula 4 del giovanissimo pilota abruzzese Mattia Bucci. Sono state girate presso l'autodromo del Levante in provincia di Bari. Mattia ha appena 14 anni, originario di Catignano, è già nell'orbita Minardi Management ha esordito in Formula 4 con il team marchigiano SG Motors di Sandro Giuliani e il suo ingegnere di pista Gianluca Pomozzi. Per via della giovanità Mattia è potuto scendere in pista solo in presenza dell'istruttore federale Vito Postiglione. Ora per Mattia inizia un nuovo programma di preparazione con il personal trainer Paolo Di Nicola che ha già seguito in passato Andrea Cardarelli in Formula Renault e in Formula 3 con l'obiettivo di arrivare al prossimo test con una condizione fisica migliore che gli permetta di superare gli altri step previsti dal programma che Giovanni Minardi e Sandro Giuliani stanno preparando per lui. Complimenti di cuore al giovanissimo Mattia Bucci.